Ciao a tutti e a tutte, sono tornata dalla Corsica, una settimana fantastica, poi vi farò un video con tutte le foto, penso anche piccoli pezzettini di video se riesco a trovare qualcosa di bellino. Sono tornata, pronta, carica per fare nuovi video, collaborazioni, se tutto va bene, spero l'altra che non ci ripensi, alla proposta che non ho fatto, nuovi video, Halloween in arrivo, il mio compleanno in arrivo, tante cose. Quindi, niente, era un video velocissimo per salutarvi e niente, stamattina ho rinunciato al lavoro, ora fra un po' devo tornare. Quindi niente, ciao a presto, se vi piace questo, fatemelo sapere, magari faccio un video. Ciao!